ciao a tutti ragazzi io sono lespleno199 e oggi siamo qui in un unboxing oggi siamo in un unboxing di super mario 3d world ragazzi l'ho acquistato oggi e oggi voglio farvi l'unboxing prima di tutto la schermata è bellissima si vedono tutti i personaggi qui sopra mario luigi peach e tood e qui si vedono il nuovo super potere che potranno indossare o meglio mario gatto il di dietro è questo se la telecamera ve lo fa vedere divertiti con mario e i suoi amici in un modo tutto nuovo corre salta arrambica alla scoperta di tanti fattori silver per uno o più giocatori vabbè qui ci sono varie immagini qui ci sono il power up ora qui non so se si vedono le abilità ma ogni personaggio ha le abilità aspettate che non so perché no e te peach piana leggiadra mezzaria mario un affidabile tutto fare luigi salta pinotti di tutti e tood scatta più veloce che mai poi c'è l'aiuto per i principianti se hai difficoltà a procedere in un livello apparirà un oggetto molto utile la foglia che ci rende mincibili e questa qui si torna pure il tanuki che ci rende mincibili finché non finire un livello e vabbè basta e questa qui è proprio la scatola ora andiamo ad aprire non si rompiamo la scatola proprio così poi non si può conservare più il disco prezioso il disco oh my god allora oltre al disco che è fighissimo abbiamo a un manuale di istruzioni ci voleva abbiamo questo codice per scaricare robe robe ora aspettate ok ancora il video a due minuti che come sapete io non faccio il gameplay perché il video dovrebbe di questo codice ancora vale a quanto pare perché questo codice scade si scade il 29 maggio 2017 ce n'è di tempo e vabbè questa qui non mi dico i tasti perché sennò prendiamo vabbè diciamoli dai e ce l'abbiamo come si apre sta roba allora ci sono i tasti per il per il gamepad zr per abbassarsi muoversi uso il touch screen gamepad per interagire con l'ambiente del gioco questa cosa non lo sapevo raga io non so molti livelli di questo gioco y o x r cambia angolazione la visuale più vabbè menu usa il potenziamento dei porto oggetti e questi qui altre azioni utili scanto a terra premi z r quando sei in mezz'aria afferra un oggetto tieni promuuto y e tocca l'oggetto un po difficile azioni di medio gatto arrampicati salta sulla parete e muoviti con l graffiare y le azioni di squadra sono afferrare un compagno e vicino a un compagno tieni premuto y entra in una bolla l il baggio felino zr più y e il graffio impicchiato tieni premuto y quando sei a mezz'aria queste sono le azioni per il comando qui però questa volta me li dico si dovrebbe vedere e come al solito qui abbiamo questo qui che non ci serve quindi vai l'unboxing finisce qua e aspetta io direi di iscrivetevi mi piace iscrivetevi e ci vediamo in un altro video ciao 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 ciao